Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Parliamo di un film italiano, una volta ogni tanto, di e con Christian De Sica, Sono Solo Fantasmi. In compagnia oggi c'è il mio grande amico Mario. Buonasera a tutti. Conosciuto come Super Mario, con cui sono andato a vederlo insieme al cinema, perché appunto, come vedete dalla mia maglietta, sono un grande fan degli acchiappafantasmi, un po' meno dei film italiani, viceversa Mario è già più esperto sui film e telefilm italiani, quindi comunque ci bilanciamo da quel punto di vista. Ho voluto dare una possibilità a questo film. Ci è piaciuto? Sì. Sì, ci è piaciuto. Anzi, io mi aspettavo anche peggio, mi aspettavo anche peggio, mi aspettavo il classico cinepanettone di De Sica, volgare, tette e culi. Invece no, mi ha sorpreso. Sì, 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 è stato abbastanza... è stato bello. Anzi, se devo dirla tutta, la trama, il retroscena, diciamo, quello che c'è prima dell'inizio del film, è quasi più approfondito che in Ghostbusters, perché in Ghostbusters sono tre soci, tre soci universitari che vengono cacciati e si inventano questo mestiere. Qua c'è la stessa cosa, qui sono, in realtà, sono tre fratelli, fratellastri, perché sono figli tutti dello stesso padre, Vittorio, ma di madri diverse. Il primo è quello interpretato da Christian De Sica, che si chiama Tommaso, nella finzione, detto anche Mago Thomas. Si ispira molto, apertamente, a un misto tra Giucas Casella e Silvan. C'è proprio una scena iniziale dove fanno vedere che lui, qualche anno prima, era famoso. Andava nei salotti della D'Urso. A fare incrociare le mani, a far camminare sui carboni ardenti. Se avete la nostra età, probabilmente vi ricordate di Giucas Casella, che lo faceva. Se siete giovani, cercate su YouTube Giucas Casella, troverete qualcosa. Più o meno era questo livello di... Faceva addormentare le persone. Esatto. Questo spiega anche, cosa che non mi spiegavo, la capigliatura di Christian De Sica in questo film, perché non ha il suo solito taglio di capelli, ma ha questo taglio lungo... Alla mago. Alla mago, che non c'entra con i Ghostbusters. Poteva essere un omaggio ai Ghostbusters, ma in realtà no, è un omaggio a questa cosa, a questo suo ruolo di mago. L'altro fratello è Carlo Bucci Rosso, che si chiama... Anche il personaggio si chiama Carlo. E... Trafetto sia il nord. Esatto. Se avete presente chi è Carlo Bucci Rosso, vi mettiamo magari qua nel mezzo, una foto, così. È il classico napoletano. Lui è napoletano, sì, napoletano. Io l'ho conosciuto per la prima volta nel film Le Barzellette, quello che c'era anche Proietti. È proprio il classico accento napoletano, così. Qua parla milanese. Già quello... Quello che faceva un ciclone in famiglia, visto che... Ah, ecco, sì. Lo seguo i televisivi italiani. Io di queste cose sono di giuno. Se guardate un ciclone in famiglia... C'è Carlo Bucci Rosso. È il napoletano del ciclone in famiglia. Ah, ok. Ah, ok, sì, certo. Il ciclone in famiglia è quello con Boldi. Boldi e... Quello romano. Mattioli. Mattioli. Ah, sì, sì. C'è il milanese, il romano e il napoletano. Ah, ok. Praticamente il sud, no, il centro. Il centro. E qua la cosa bella è di vedere Carlo Bucci Rosso, che parla milanese. Parla anche abbastanza bene. Per noi che siamo bergamaschi, non siamo di Milano, quindi sembra... È abbastanza credibile, diciamo. È abbastanza credibile. E chiaramente quando appunto perde un attimino il controllo, torna l'inflessione napoletana e lì si fa... lì c'è la gag comica. Tra l'altro... Dei due è quello più... Sì, dovrebbe essere quello più... È quello più rigoroso, quello che dice... Più liggio al dovere. Cosa stiamo facendo. Esatto, mentre Thomas, Christian De Sica, è quello più che vive la giornata, anche perché è col mestiere che fa... Va allo sbando. Va un po' allo sbando, così. E invece appunto Carlo Bucci Rosso è quello più schematico, anche perché si è trasferito al nord, ma, come si suol dire, ha attaccato Cappello in una famiglia milanese con la moglie classica, doc milanesina doc, dell'azienda del suocero, che lo tratta male, ma ha ricordato un po' il primo Aldo Giovanni Esacomo, col suocero che comanda i generi, una cosa così, no? E lui si fa proprio comandare a bacchetta non solo dal suocero, ma anche dalla moglie che porta i pantaloni in casa, ed è proprio messa lì per essere antipatica. Sono figli di madri diverse, dallo stesso padre, ma... Ma uno sa dell'esistenza dell'altro. Esatto, è la classica famiglia allargata che c'è adesso, diciamo, anche se loro hanno chiaramente sui 50, però appunto il padre era un po' un viver, un donnaiolo, e quindi ha dei figli sparsi in giro, ma tutti riconosciuti, quindi loro comunque si conoscono, ma non conoscono, non sanno che c'è un terzo figlio, lo scoprono perché questo papà, questo papà Vittorio viene a mancare, e quindi sono richiamati tutti... Dopo vent'anni. Dopo, sì, dopo vent'anni per il testamento, per il testamento. Nel testamento scoprono... Sperano di avere tutti i soldi. Ovviamente c'è una bellissima casa nel centro di Napoli, che sembra proprio un palazzone che poi faccio anche un altro riferimento a Goosebusters dopo, c'è questo palazzone, quindi pensano di avere almeno la casa, almeno dei soldi, invece hanno solo dei gran debiti. C'erano i debiti? Sì, debiti. Quindi hanno dei debiti, c'è un'ipoteca sulla casa mi sembra, loro devono... Devono trovare tot soldi entro due settimane. Prendetela con le pinze, l'abbiamo visto, scusate anche il ritardo con cui lo facciamo la recensione, l'abbiamo visto quando è uscito il 14 di novembre. Comunque hanno un tempo abbastanza limitato per tirare su dei soldi, che sono i soldi dell'ipoteca, che appunto non sono i soldi del vero valore della casa, che vale molto di più, però se riescono a tirar su almeno questi soldi, possono quantomeno avere la casa per poi rivenderla e spartirsi la fetta, diciamo, della torta. L'alternativa è rinunciare al testamento e continuare con la propria vita, ma dal momento che sia Thomas è senza una lira, sia Carlo che pur attaccando cappello e stando con la famiglia milanese, in realtà non ne ha neanche uno perché ha fatto degli investimenti sbagliati. E vuole far vedere che comunque fa qualcosa anche lui. Esatto, vuole far vedere che non vive alle spalle del suocero per forza. C'è anche un terzo fratello che scoprono di avere all'atto del testamento, questo fratello è interpretato da Gianmarco Tognazzi, vi mettiamo sempre poi la foto bene in sovrimpressione, Gianmarco Tognazzi che si chiama Ugo, omaggio a suo padre Ugo Tognazzi, così come Vittorio, il padre di Thomas e gli altri fratelli, è un omaggio a Vittorio de Sica, il padre di Christian de Sica, e non solo il nome perché poi vedremo, poi ne parliamo più avanti. Questi tre fratelli decidono di mettersi insieme per cercare di racimolare i soldi di questa ipoteca. Come fanno? Acchiappando fantasmi. Perché acchiappando fantasmi? Perché questo Ugo, questo terzo fratello che è un po' toccato, che esce da un istituto per malati di mente o comunque così, non lo considerano molto a posto in famiglia. Ha un talismano. Ha un talismano, fa tutte le... lo si vede per la prima volta al cimitero, tra l'altro, che raccoglie la terra, fa delle cose strane, però nonostante sia un po' tocco, è abbastanza sveglio da non dire apertamente quello che fa. Dice per primo che lui non ci crede in queste cose, le studia in modo da non farsi rinchiudere di nuovo, però mano a mano si scopre che invece lui sa molto di fantasmi, ci crede, sa che esistono e introduce i due fratelli a questo mondo appunto di talismani, perché appunto non ci sono le trappole, non ci sono gli zaini protonici scientifici che ci sono, dei Ghostbusters, anche perché non sono scienziati. Ci sono cose tipicamente legate alla credenza italiana, quindi talismani, amuletti, la terra consacrata, le parole tipo filastroche, gli anatemi da dire, era in latino forse mi sembra, era latino, e usano delle urne, delle anfore come trappole appunto per imprigionare questi fantasmi, c'è una candela, c'è un rituale fondamentalmente, le tre cose sono la candela, la terra, il talismano e le parole in latino dette da chi indossa il talismano. Hanno sostituito tutta la parte scientifica che non potevano avere, dato che non sono scienziati, con questa superstizione... La tradizione italiana. Tipicamente italiana. Tipicamente italiana. Esatto, ed è ambientato a Napoli, dal momento che non l'abbiamo detto, Christian Thomas è romano. Carlo Bucci Rosso, che è Carlo, si è trasferito al nord, parla milanese, ma è napoletano e la casa è situata a Napoli. Allora loro cosa dicono? Ok, siamo a Napoli, che è un paese, è una città che è ancora molto radicata nella credenza popolare, nella tradizione, nella superstizione. Il nome dell'otto. Sì, tutto ciò che è... La smorfia. Sfruttiamo questa cosa, col fatto che Ugo conosce tutte queste robe qua di talismani, la sfruttiamo questa cosa, ci facciamo pagare, ovviamente non è che se lo inventano così, c'è una vicina di casa. Hanno la fortuna che sta vicino di casa, vede la sorella morta. Vede la sorella morta, ci crede, ha paura, conosce Tommaso come Thomas il mago e chiede a Tommaso di liberarla dal fantasma della sorella, anche pagandolo, e allora gli viene ai fratelli questa idea di farlo proprio... Lo fanno la prima volta per scherzo. Per scherzo. La cosa bella, appunto, è che a differenza di Ghostbusters, più o meno fino a fine primo tempo, più o meno fino a metà film, noi vediamo loro che si mettono in attività, loro che indossano questo camice del colore della tuta dei Ghostbusters, tipico, che hanno questi zainetti che non sono zaini protonici ma sono gli zaini che contengono le urne, tutto il necessario, che proprio richiamano ai Ghostbusters, c'è anche tutta la sequenza musicale in cui loro fanno le cose, vengono ingaggiati, un po' come nel primo e nel secondo Ghostbusters, dove quando loro si mettono in attività c'è la sequenza musicale e ci sono loro che sono uguale, la stessa cosa. La canzone è italiana, Fantasmi di Clementino, poi magari ve la metto in descrizione, però loro lo fanno... Per scherzo. Per scherzo, quantomeno loro fanno sapendo che quello che fanno non c'è, nel senso non esiste, cioè loro vanno a sfruttare la creduloneria del cliente, come erano accusati gli acchiappafantasmi, però loro davvero lo fanno. Però cosa succede? Dal fine primo tempo, dal secondo tempo pare che qualcosa si stia svegliando, ovvero proprio i fantasmi, i fantasmi sembra che si stiano incazzando di quello che stanno facendo. Prima perché Ugo inizia a vedere robe strane, però Ugo è quello un po' matto. Nessuno ci fa caso. Poi inizia a vederle Thomas, Christian De Sica, e già il terzo che è il fratello più rigoroso dice, ma cavolo state dicendo, quando anche al terzo fratello succede una cosa anche abbastanza paurosa per lo spettatore, anzi, devo dire che come effetti speciali o come colpi di scena da film horror, è meglio di Ghostbusters, cioè è molto più impressionante di Ghostbusters, sono proprio attimi stile horror, sono fatti veramente bene. Quando succede al terzo fratello, appunto una cosa particolare, che si pisce addosso dalla paura, allora iniziano a capire che quello che fanno è vero, fondamentalmente. Poi infatti si ritrovano tutti e tre insieme nel letto, che è lì che si pisce addosso, Carlo. Tra i fantasmi che appunto sembra che inizino a rivelare la propria presenza al pubblico e anche ai nostri protagonisti, alla gente, c'è anche il fantasma di Vittorio, che è il padre di questi tre fratelli, che appunto essendo morto all'inizio del film è ancora nella casa dei fratelli di Paola. Ugo, che è quello appunto più esperto di queste leggende, sente che c'è una minaccia incombente, che è la leggenda della Yanara, che pare che rischi di essere risvegliata dall'attività di questi acchiappafantasmi fondamentalmente, perché appunto sembra che quando i fantasmi verranno tutti riuniti, il Vesuvio esploderà, Napoli sarà sottolineato, i morti prevaricheranno sui vivi e quindi devono anche un po' impedire questa cosa. Anche questo si rifà molto al finale del primo Ghostbusters, però tipicamente immerso nella tradizione italiana. Mentre succede questo, mentre Ugo si sta informando su questa minaccia e su come sconfiggerla, il fantasma di Vittorio si impossessa di Carlo, che appunto è quello un po' più rigoroso, quindi quello più opposto al padre da quel punto di vista. Che prende tutti i soldi che avevano guadagnato, esatto, per l'ipoteca e si arriva a giocare al casino, al casino su una nave del suocero che è arrivato a Napoli appunto per fare visita al nipote. Cosa succede? C'è una scena bella in cui Carlo, impossessato da Vittorio, innanzitutto parla con la voce di Christian De Sica, che è molto carino da vedere, e poi ha una rivalsa sul suocero perché appunto lo tratta finalmente, tira fuori le palle, parole, però purtroppo perde nel gioco e quindi il suocero ancora lo sbiffeggia, perché comunque Vittorio anche quando era in vita era pessimo nel gioco d'azzardo. Nel frattempo Thomas riesce con un modo un po' non tanto legato a salire, a intrufolarsi su una nave e in qualche maniera poi loro tornano a nuoto, cioè in qualche maniera vengono poi cacciati da questa nave, tornano a nuoto e quasi affogano. In questa scena sembra quasi che il fantasma del padre abbia un ruolo nel grande finale della Yanara. In realtà non si spiega perché, poi quando tutti e tre vanno in questo tempio antico dove la Yanara comanda sugli altri fantasmi e quindi anche su Vittorio, tra l'altro effetto speciale del trucco della Yanara a me è piaciuto tantissimo, sembrava proprio un film americano, quindi finalmente si investe anche in questo tipo di film anche in Italia, non solo nelle commedie appunto da cinepanettone, ma si inizia a osare. Papà Vittorio era papà Vittorio. Papà Vittorio è un chiaro omaggio a Vittorio De Sica nel look e tutto, anche se appunto è un po' ingombrante perché non ha questa parte qui, non so, io l'avrei omaggiato in un altro film, non in un film di fantasmi, però ci sta, ci sta anche lì. Niente, in questo finale la Yanara dice al fantasma di Vittorio, uccidi i tuoi figli e tornerai in vita, però cioè glielo dice così come come se fosse una cosa che gli aveva già detto, ma in realtà non è spiegata bene, ecco se ha una pecca questo film è che c'è un finale un po' veloce, sì un po' frettoloso, cioè tutto buttato boom 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 lì così e dici cavoli peccato era un così bel film, avrei preferito un finale molto più lottato, con più duello, sì esatto, con questo fantasma qui e invece è tutto, si risolve tutto in fretta perché diciamo che il fantasma di Vittorio tiene a bada la Yanara, scegliendo l'amore per i figli, scegliendo l'amore per i figli, scegliendo di non tornare in vita perché dice i figli sono figli, cioè vive con il proseguire della vita dei propri figli, non certo tornando in vita a lui e quindi si sacrifica, per così dire, tiene a bada questa Yanara. Facendo il rito finale, anche lì il rito finale non è spiegato molto bene come possono incapsularla in qualcosa che non è la loro urna ma è il pozzo da dove è venuta la Yanara, sarebbe stato molto più carino se avessero detto, ah sì serve tutta la terra che abbiamo, allora magari buttavano giù tutte le urne, serve una candela più grossa, cioè tutte queste cose qua, invece proprio è stata una cosa molto veloce perché per fare questa scena finale, se te la ricordi, dove loro tornano, dove loro sconfiggono, quindi salvano Napoli e con questo furgoncino loro vengono osannati, così a rallentatore come nel finale di Ghostbusters ma lì aveva un senso, qui cioè se per questa scena qui hai dovuto rinunciare a uno scontro epico, cioè io avrei preferito piuttosto allungare un po' di più il film, fare tutte e due le scene, invece vabbè, quindi bello, non bellissimo, poteva essere più bello, non assolutamente per... Potrebbe essere su un finale più da... Un finale assolutamente... si poteva fare tranquillamente, con una scena in più ci guadagnava tantissimo, non c'era bisogno di effetti speciali maggiori, era proprio una questione di allungare di qualche minuto, con la recitazione, non serviva per forza gli effetti speciali, magari l'hanno fatto corto pensando che lo facciamo corto perché non abbiamo così tanti effetti speciali, ma bastava qualche scena così, appunto parlare alla terra, non serviva chissà questa cosa... e questa cosa... E vengono ozzannate, vengono ozzannate alla fine... Ah ecco, tra l'altro alla fine vedono allontanarsi il fantasma di Vittorio, la pellicola va in bianco e nero, quindi proprio lì chiarissimo omaggio a Vittorio De Sica, gira e saluta, fa così... sì, ci sta anche se Vittorio De Sica non girava assolutamente questo genere di film, faceva dei film un pochino più impegnati, diciamo, contognazzi, non aveva nulla a che fare con il genere di film del figlio, Marcello Mastroianni, Marcello Mastroianni anche voi se non sapete chi è, è quello di Amici miei, quello di... oddio mi stava venendo la vite bella, quello della fontana di Trevi, Marcello, Marcello come here, quello lì, quindi comunque film di un certo livello, Cristian ha fatto tutt'altri film, quindi inserire un omaggio al padre in un film così è un po' strano, però è anche carino perché il film è diretto anche dal figlio di De Sica, Brando De Sica, quindi c'è proprio... che è regista, che è regista, c'è tutta questa famiglia, la famiglia De Sica riunita in questo film, la regia è di Brando e di Cristian De Sica, quindi proprio è tutta una cosa familiare e sono anche felice che un film di De Sica, diretto da De Sica, sia più bello della media dei film che fa, diciamo, con Boldi, cioè più bello, un po' meno volgare, cioè che dimostra che non è... Non c'è la solita trama di culo, tette, colma... Tradimenti, ecco, anche non ci sono i tradimenti, per esempio Cristian, il Thomas, Mago Thomas, ha una moglie, un'ex moglie, gli alimenti della figlia o del figlio, non lo so, ma nemmeno si vede la figlia, la moglie è Nadia Rinaldi, che dimagrita molto se per caso ve la ricordate nei film anni 90 con Boldi, era quella molto in carne, quindi magari non la riconoscete, ma è Nadia Rinaldi, però è proprio una particina così per far capire allo spettatore che il Mago Thomas ha molti debiti, cioè che deve occuparsi di questo, ma non ci sono tradimenti, non ci sono tette e cule di fuori, cioè dimostra che si può far ridere in Italia anche con una commedia un po' più americana. Questo è tutto, vi salutiamo. Noi vi salutiamo, con l'inchino e con l'imbuto vi salutiamo e vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace, di commentare su cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, diteci la vostra, che poi ne parliamo, rispondiamo nei commenti, e di condividere il video con tutte le persone che amano i fantasmi, in senso fisico, no, in senso lato, mitologico. Con questo è tutto, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, arrivederci. Arrivederci.